Da Piazza San Francesco a Castelzecco, da Santa Maria delle Grazie alla Croce del Monte Lignano, è stato Arezzo a far da scenario all'Etruria Marathon la camminata ludico-motoria non competitiva ad anello a passo libero e soprattutto aperta a tutti, dai viandanti a pellegrini, dai camminatori agli atleti. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Piede Libero, ha proposto quattro percorsi con grado di difficoltà crescente, ma tutti con partenza e arrivo da Parco Pertini.